A voce mia ce l'ho così, vuoi vedere perchè? perchè ho avuto un incidente grave di un mese in coma c'è la moto mi hanno fatto la tachatomia e mi hanno toccato le corde locali se mi dovesse accadere qualcuno di un incidente nelle fleppo dove di metà bottiglia dove c'è un bucone molinari alla rovescia e quello che tu vicino alla vena e così mi sono inviato, eccomi qua bello, sano forte buon numero di loro, 190 anni questa si la bara è tutto circondato da boccioli dal lì del mezzo di Sambucone che cazzo le sei alla notte? si te svegli da spirito la bara di Sambucone